Spostamento. E mentre la cronaca registra una nuova violenta aggressione ai danni di una donna successa nel veneziano, il Veneto si dota di una legge contro il femminicidio. In pre dei fumi dell'Aicola ha sequestrato in casa la fidanzata e la massacrata di botte. La feroce aggressione, vittima una 27enne moldava picchiata davanti al figlio di 7 anni, avvenuta nel veneziano all'indomani dell'approvazione del Consiglio regionale del Veneto di un disegno di legge contro la violenza sulle donne e purtroppo solo l'ennesimo episodio di un fenomeno dei numeri sempre più allarmanti anche nel Vicentino. 162 contatti nel primo anno di attività dello sportello antiviolenza aperto in città, un fenomeno che necessita di risposte forti e concrete, direzione nella quale va il provvedimento bipartisan della regione che oltre a linee di intervento prevede anche uno stanziamento di 400 mila euro. Penso che sia importante che tutte le azioni che sul territorio già sono in essere siano formalizzate in una legge che coordina i vari interventi e soprattutto li finanzia e prima di tutto riconosca proprio con un provvedimento formale l'esistenza di un fenomeno di una certa rilevanza. Intanto Vicenza non sta certo a guardare, prima l'accordo con l'ordine degli avvocati per un servizio di consulenza gratuito e poi qualche settimana fa la firma sul protocollo per l'estensione dell'accoglienza delle vittime di violenza in orario serale e festivo. Torniamo a parlare del Master Plan del Centro Storico dopo la presentazione...